ciao a tutti e bentornati allora tutto si può dire fuorché questa telenovela sia scarsa di colpi di scena oggi proprio come promesso giuseppe ha pubblicato un video seppur breve dove stavolta a raccontare l'accaduto non è stato lui ma veronica una veronica che parte subito col dire che stava male e non era consapevole di ciò che stava facendo che giuseppe non la picchia che tra loro ci sono solamente banali litigi ha spiegato inoltre che la scelta di chiamare a telefono proprio chiara è stata un po obbligata perché in fondo è stata l'unica che le ha risposto anche perché lei non ha tutte queste amiche o familiari che in caso di urgenza lei possa comunque interpellare per ricevere da parte loro un aiuto quindi essendo lei in difficoltà si è affidata alla prima persona utile che le è venuta in mente e cioè chiara però non deve sentirsi legittimata a postare pubblicamente tutti i fatti suoi continua col dire che giuseppe non la picchia non è assolutamente spaventata da lui e non è stato lui a costringerla a fare questo video in cui sta raccontando tutte ste faccende poi giuseppolo da voci fuori campo si pone anche lui a favore di cam e quindi appaiono entrambi tranquilli raccontano di essere stati anche in caserma per via della denuncia sporta da veronica nei confronti di giuseppolo e che l'idea è stata suggerita da chiara non è partita da lei conferma il fatto che sia stato nominato il loro bambino da davide nel parcheggio della lidl quando c'è stata tra virgolette l'aggressione poi ritorna a bomba a quello che è stato l'episodio della sera prima attribuendolo al fatto di non aver assunto i medicinali e quindi il tutto sfociato in un litigio con giuseppe la relativa fuga da casa è richiesta d'aiuto per via telefonica a chiara che per tutta risposta la imbeccava contro giuseppolo e la esortava altresì a denunciarlo e le diceva le peggio cose sul suo compagno durante il corso della telefonata no tra un imbeccato e l'altra sembra che veronica abbia trovato il tempo di chiedere a chiara il favore di andarlo a prendere e sembra che chiara per tutta risposta le abbia detto che non era possibile in quanto davide era a dormire quindi a quanto pare l'unico aiuto che poteva prestare in primo soccorso chiara era il fatto di postare nella sua community il fatto che giuseppolo fosse un uomo violento e che veronica fosse andata in caserma dai carabinieri a denunciarlo e quindi a seguito di tutto questo veronica annuncia alla sua utenza che ha deciso di denunciare chiara perché perché si è sentita istigata da questa e per comunque anche la storia del post in cui raccontava pubblicamente tutti i fatti suoi compreso il fatto di aver reclamizzato a che tempo addietro veronica era stata implicata in un fatto illegale abbastanza grave e anche in merito a questo gravoso fatto veronica ci tiene a dare una sua spiegazione cioè lei era in compagnia del suo ex ragazzo che è stato lui a commettere il reato lei solamente accompagnava questa persona e non si era anche resa conto di quello che stava accadendo quindi si dice molto risentita del fatto che chiara d'alessandro la pubblicizzi sui social come una persona che ha tentato un omicidio cioè una pseudo assassina chiarite tutte queste faccende entrambi annunciano che dopo questo ulteriore video di spiegazioni ritorneranno al loro palinsesto consueto cioè con video spensierati con mukbang con blog allegri magari le canzoncine cantate da giuseppolo tutti quei video che insomma stavano facendo proprio nell'ultimo periodo prima di tutto sto gran casino che esplodeva su youtube ora cosa penso io penso che sia giuseppe che veronica siano due persone fragili che hanno bisogno di essere lasciate un po' tranquille un po' in pace e di fare il loro percorso tranquillamente su youtube che non vedo in loro delle macchine da guerra lanciate verso il dissing soprattutto quello feroce a cui abbiamo assistito in questi ultimi giorni cosa buona e giusta hanno fatto la coppia daniele il ciuffo ribelle di youtube e rosaria che praticamente hanno salutato tutti e si sono rinternati in quella che è la loro tranquilla vita reale quanto riguarda invece le due live trasmesse ieri da chiara una sulla violenza alle donne e l'altra in compagnia di un'altra youtube non non mi esprimo per scelta perché comunque ci ho trovato tanta incoerenza perché comunque andare a toccare determinate tematiche solamente per portare un po di scompiglio nella casa d'altri mi sembra un po eccessivo come metodo di monetizzazione sarò fatta male io però alle visualizzazioni preferisco di gran lunga la coscienza pulita bene e questo era il succo del video di oggi di giuseppolo dove intervenuta in prima persona veronica a raccontare un po la sua versione della faccenda questo per oggi quindi è tutto vi auguro buona continuazione di serata e vi do appuntamento al prossimo contenuto un bacio a tutti da gossip grazie a tutti 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 grazie a tutti